Amici Niter, amiche Niter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video video nel quale vi faccio vedere gli sneak peek delle anticipazioni per l'autunno subito dopo la sigla Valentina che cucerà lana, cucerà lana, cucerà lana Amici Niter, amiche Niter, a grandissima vostra richiesta perché siete curiosi peggio di me degli investigatori peggio di Topolino Super Detective ho deciso di fare questo video di anticipazioni per l'autunno anche se siamo ad estate appena iniziata ma se volete sostenere il mio canale mi raccomando mettete immediatamente un like spolliccionate, condividete questo video con Rampopulo affinché il mio canale diventi sempre più grande e così anche la community della maglia italiana sempre più grande e più bella e più forte nell'info box qua sotto il video trovate anche la mia pagina facebook, il mio instagram, il mio negozio Ravelry è il mio negozio di gadget a tema maglia se vorrete comprare qualcosa o anche solamente lasciare un commento, un like e iscrivervi dappertutto io sarò contentissima perché queste sono cose che aiutano tantissimo il mio lavoro il mio percorso su youtube, su Ravelry, su facebook, dappertutto e voi veramente mi date un grandissimo supporto e se lo fate io vi ringrazio infinitamente insomma amiche, amici io non vedevo l'ora di incominciare a farvi vedere qualcosina naturalmente, naturalmente le cose appariranno e spariranno con una velocità pazzesca è vietato fare fermo immagine e cercare di indovinare che cose ma in ogni caso vi faccio vedere qualcosina per solleticare la curiosità e farvi venire voglia di quello che potrebbe essere carino a cui voi potreste partecipare insomma almeno i colori, le forme, vagamente ve li faccio vedere cominciamo con il primo progetto finito questo l'ho fatto passare lentissimamente e anche se è tutto bello insacchettato che fa un sacco di rumore voi dovreste averlo già visto su facebook questo è un maglione notate il colore giallo notate che c'era del pizzo, voi avete visto notate che non è uno challe notate che questo sarà fatto a Vienna in settembre presso Vol Salon Sunshine Loop non so, meditate una gitarella perché è veramente un maglione molto 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 carino è fatto con una merino tinta a mano la Lifing Lemon Grass Merino qualcosa di K mi pare bella, bellissima sicuramente non tirata dietro ma veramente molto molto bella finisce anche abbastanza velocemente perché la lana è piuttosto grossetta diciamo che ci saranno delle sorprese aggiuntive che svelerò solamente in sede di workshop questo maglione non verrà pubblicato dopo il workshop di Vienna ma lo conserverò per un'eventuale prossima pubblicazione non piangete non odiatemi sentite che qua sotto c'è già il prossimo progetto in preparazione attenzione, questo sarà velocissimo non si è visto niente speriamo allora avrete visto però che non è uno scialle è un progetto a due colori in cammello e in pecora sartul ed è fatto con due filati meravigliosi che sono i filati Nomad Nus questo workshop lo farò a Firenze in collaborazione proprio con Nomad Nus diciamo che al momento in cui sto facendo questo video non so se questo workshop si farà oppure no perché essendo un progetto su Kickstarter se non ci saranno abbastanza iscritti non si farà nel caso non si faccia e ovviamente questo progetto resterà nel limbo e non vedrà mai la luce quindi se volete lavorarlo perché vi assicuro che è bellissimo corrette a prendere informazioni su questo workshop a Firenze con Nomad Nus con me perché è veramente bellissimo i filati sono fantastici che ve lo dico a fare sono meravigliosi tra i migliori che ho lavorato finora non fatevi scappare questa occasione terzo progetto anche questo è rumoroso questo posso farvelo vedere così tanto è scuro non si capisce niente sono malvagia dentro allora questo è un progetto vi faccio vedere di nuovo ancora una volta riuscite a capire solo il colore il colore è un viola scuro è una lana piuttosto grossa della Fiber & Co che si chiama allora si scrive l'ore e tutte quante dicono l'ore però in realtà si dice una cosa tipo l'ore con la bocca storta così l'ore ecco perché si dice così e quindi è una lana veramente pazzesca meravigliosa cioè veramente ne sono totalmente entusiasta è tra i miei preferiti del periodo e magari potrei prevedere di fare un preferito dell'inverno vediamo come tipo di materiali ditemi se volete un video di questo tipo nei commenti cosa stavo dicendo sì che è un progetto viola scuro che lavorerò da The Yarn Shop a Lugano in ottobre io vi dico solo è fantastico è fantastico questa volta prevediamo di fare due giorni perché ci sono tante richieste magari viene qualcuno anche dall'Italia la prossima volta io vi assicuro che è un posto che merita la visita ha dei filati veramente fantastici e il lago di Lugano è bellissimo quindi se prevedete una gita mettetela in conto per ottobre adesso sono in crisi perché non ho sacchetti e quindi si vedrà di più il progetto quindi dovrò studiare di farvelo vedere super rapido ok lentissima in realtà allora sembra molto più arancione nello schermo piuttosto che dal vivo dal vivo è un ruggine meraviglioso meraviglioso è il misto seta yak di my yak e qua stiamo parlando di cose stiamo parlando di robe top ragazzi è un progetto che lavorerò a misterlino bologna sempre in autunno in ottobre credo penso di sì è bellissimo bellissimo è un maglioncino un maglioncino dalla linea molto moderna molto sgarzula e giovanile quindi tenetevi pronti perché arriverà questo maglioncino fantastico devo dire che finora tutti quelli che vi ho fatto vedere mi piacciono un casino tantissimo qua è un altro che non ha che non ha ok vediamo se ce la faccio così vabbè dai è andata bene allora avete visto due colori su tre del progetto misterlino parma perché se c'è bologna c'è anche parma e sarà sempre ovviamente tutto nel weekend misterlino bologna sarà di sabato e parma la domenica e questo progetto l'ho lavorato che non è uno scialle e l'ho lavorato con amore 240 del borgo dei pazzi resta sempre uno dei filati economici nel mio cuore da sempre non si smentisce devo dire e a proposito di questo faccio un piccolissimo inciso perché nei commenti più di una persona mi ha chiesto ma mi hanno detto che il amore del borgo dei pazzi spallina abbastanza una volta che lo usi allora io dirò la verità che ho usato il pilloro il maglioncino che ho lavorato l'altro anno a Firenze dal filo matto quello l'ho messo parecchio e devo dire che ha veramente fatto un paio di pallini ma assolutamente nella media se non addirittura sotto il riviera che ho fatto per forlì punti e spilli quello lì l'ho messo tantissimo perché mi era comodissimo come cardiganone da casa perché io a casa tengo abbastanza insomma tengo abbastanza bassa la temperatura perché mi piace un ambiente piuttosto fresco non uso mai tantissimo il riscaldamento piuttosto mi metto un maglione di più l'ho usato tutto l'inverno tantissimo ma proprio tantissimo e devo dire che di pallini ne ha fatti veramente pochissimi ma pochissimi 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 allora o sono stata fortunata io ho sentito anch'io che qualcuno ha avuto questo problema dei pallini io da parte mia devo dire non posso inventare una cosa che per me non lo è per me il problema dei pallini non c'è per questo filato ve lo direi senza problemi ecco e allora per intanto come primi sneak peek insomma ve ne ho fatti vedere parecchi potrete essere abbastanza soddisfatti lo so che non sarete mai contente lo so che siete infelicissime che vi ho fatto vedere così poco tutto maglia rasato non avete capito niente ma capitemi che io sono fatta così sono un po' sadica e un po' stronzina e questo però vi piace un pochettino vero ecco anche se non vi piace dove siete oramai costretti a dire di sì insomma nell'attesa di un nuovo video mi raccomando voi sferuzzate più che potete ciao un po' Grazie a tutti